Allora, l'accordo prevede la possibilità di acquisto da parte dell'Istas del credito verso uno bonus da parte dei soci sicurati. Il nostro socio va a Sirena in agenzia per la gestione iniziale della pratica, vi ha poi il mandato a KPI territoriale che gestirà la pratica dal punto di vista di un buro pratica di un istituto. Quindi predisporranno l'iter preventivo di interiabili, verranno eseguiti i lavori e a termine di lavori si acquisterà il credito o direttamente dall'assicurato o direttamente dall'impresa o dall'artigianza. Un accordo importante da due punti di vista, il primo è che viaggia i nostri soci sicurati nella gestione della ristrutturazione edilizia e inoltre contribuisce a rilasciare l'economia e soprattutto nella nostra tradizione.